Cari amici di Abbinamento TV, bentornati a un nuovo capitolo degli amici di Abbinamento. Stasera abbiamo un carissimo amico di Abbinamento, Luca, io lo chiamo Luca Bolle, noi lo chiamiamo tutti Luca Bolle, in realtà ha anche un cognome Luca Giusiano, è un grandissimo appassionato di Bolle, forse, infatti il 7 l'abbiamo allestito appositamente con tante belle bollicine, ma mi sto poi venerdamente e lascio la parola a Luca che ci racconterà un attimino la sua esperienza in ambito enologico e anche il modo curioso in cui ci siamo conosciuti, giusto? Allora comincio, vado in ordine della domanda, quindi sì diciamo io ho iniziato a avvicinarmi un po' più seriamente al vino una ventina d'anni fa, ahimè, questo vuol dire che sono giovanissimo, 22 anni e diciamo poi la passione è cresciuta, devo dire che in realtà sono iniziato con gli Ossi perché essendo in Piemonte naturalmente è una cosa interessante perché questo modo di approcciarsi al vino è un classico, nel senso anch'io ricordo, io addirittura ricordo i primi vini più che guardare il colore guardavo la quantità, guardavo la quantità, c'è stato il periodo poi dei mossi rossi e dei facili, poi c'è stato il momento dei rossi importanti, poi le bollicine, perché è proprio un'evoluzione, è chiaro che uno non trova l'interno. Sì, io diciamo poi all'inizio degli anni 2000 ricordo questi rossi molto barricati, strutturati, quindi erano anche insomma piacevoli per chi approcciava il vino in quel periodo e poi per fortuna insomma le cose sono cambiate nel senso che siamo tornati a qualcosa di un po' più, con un'acidità un po' più importante. Con l'uva. Esatto. E poi nel 2005 mi sono diplomato sommelier con Fisar, è una cosa che ci accomuna e poi da lì insomma è stato un crescendo di interesse, di passione appunto per il mondo del vino e diciamo che dopo il corso sono passato un po' come si dice in termini universitari dall'istituzionale monografico e quindi ho cominciato ad appassionarmi in particolare di bollicine, di spumanti, di champagne e quindi ho cominciato a informarmi, a leggere, a fare corsi ma soprattutto ho cominciato a girare per cantine. A parlare con i produttori e ad assaggiare quindi a creare quella che io chiamo la biblioteca di profumi e di sapori che ci portiamo dietro e che poi serve sostanzialmente a indirizzare il nostro gusto ma nello stesso tempo anche a saper valutare poi un vino in maniera più possibile oggettiva e quindi diciamo in questo sono stato anche facilitato dal fatto che negli ultimi vent'anni sicuramente il mondo delle bollicine soprattutto in Italia ha avuto una crescita esponenziale quindi più etichette nel senso che sono nate nuove cantine pensiamo ad esempio la Franciacorta che sicuramente ha avuto un forte sviluppo, chi non faceva spumanti prima adesso comincia a farli o ha già cominciato da qualche anno a farli e quindi più scelta sul mercato ma anche più qualità e quindi adesso finalmente lo spumante non è più solo il vino delle feste o d'aperitivo ma è anche il vino da tutto pasto è il classico dei nostri genitori quando si arriva con il dolce cosa dicevano? dolce o secco e con lo spumante una volta era il secco davvero adesso invece si può abbinare un po' a tutto come non solo al pesce come tu ci insegni assolutamente 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 no di qua arriviamo a tempi più vicini a noi Instagram e crei questo account su Instagram che si chiama Passione Bolle si 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 diciamo che è iniziato naturalmente per gioco perché ahimè io faccio un altro mestiere non mi occupo di vino anche io lo facevo prima quindi non si sa mai dire mai e quindi è nato come gioco poi insomma ho il mio seguito di pochi follower però insomma non è quello il mio obiettivo ma è quello di divertirmi di condividere con i miei amici appassionati qualche cosa però sono post fatti molto bene dove si spiega si vede che non è un discorso promozionale tu non devi vedere la bottiglia perché non fai quel mestiere lì quindi lo assaggio lo assaggiato lo assaggiamo perché molte volte ho la fortuna di esserci anch'io e poi fai le tue considerazioni le tue analisi eccetera eccetera quindi anche per imparare anche per capire tutto ve li condivido consiglio Passione Bolle su Instagram è veramente un account fatto bene si si molto artigianale ripeto però quello che è ma noi siamo degli artigianali fondamentalmente e quindi siamo arrivati a questo discolo qua ma noi ci siamo conosciuti grazie poi a questi video che vanno su avviene a metto tv perché uno dei primi video ti era arrivato tramite un comune amico e se ricordo bene alle spalle forse avevo del Monsupello o del Darapri non mi ricordo comunque una bollicina si si quindi da quello ho subito capito che ci siamo che ne saperi e quindi ho detto che ne bevevi no beh poi insomma è anche non facile fare le scelte giuste in questo campo che ripeto c'è davvero tanta gente ormai che si cimenta le sfumatizzazioni e quindi anche riuscire a trovare il giusto compromesso tra la qualità e il prex quindi c'è davvero una semplice e di qua inizia questo rapporto che poi diventa un rapporto di amicizia, collaborazione eccetera eccetera che adesso vi andremo magari a spiegare un pochino più di dettaglio e caro Luca quindi noi ci siamo conosciuti abbiamo incominciato a frequentarci in cantina hai conosciuto il resto della cricca, hai partecipato alle serate ma hai partecipato anche alle serate di education che facciamo giro e hai dato anche una mano quando c'è da parlare di bollicini e champagne metodo classico come vedete io parlo di champagne metodo classico e bollicini non oso nominare prosecco con lui perchè lui è bollicina ma non è proprio prosecco tanto dica proprio prosecco che è trainante però insomma qua parliamo di alto calibro e grazie proprio a queste serate in cantina dove gli amici i collaboratori i cosiddetti componenti del comitato di abbinamento mi portano delle nuove proposte assaggiamo delle nuove chicchette quasi sempre di nicchia poco conosciute ecco anche anche Luca è cominciato da un annetto e passa a questa parte a farci assaggiare e conoscere delle piccole chicche qualcuna entrata in carta qualcuna no per vari motivi sono buone ma magari avresti una carta troppo no esatto e la cosa bella è che lui arriva sempre magari con delle zone un po' meno conosciute dei produttori piccoli dove però c'è in discutibilmente una grandissima qualità ma che abbiamo assaggiato tanta roba anche altre zone ma in Sicilia e proprio di Sicilia parleremo a breve con questa bottiglia che andremo da prima ad assaggiare ma a questo punto appunto lascio di nuote la parola per il discorso appunto di esperienze si allora diciamo che quando ci si appassiona a una tipologia di vino come può essere lo spumante ovviamente si parte dalle denominazioni più famose ovviamente i primi spumanti che ho assaggiato sicuramente sono quelli da Franciacorta del Trentino e vabbè adesso la Talanga sta prendendo anche piede però in realtà in Italia ci sono diverse zone che non hanno nulla da invidiare perlomeno perché ci provano e cercano di fare un prodotto appunto di qualità e la Sicilia e vabbè io sono legato alla Sicilia non ho le origini siciliane ma mi piace tantissimo la regione che frequento perlomeno per il vino esatto quindi con la mia compagna siamo andati una dozzina di volte in Sicilia e quindi ogni volta che ci vado cerco di scoprire nuove cantine diciamo che in Sicilia ormai sfumantizzano un po' in tutte le zone quindi vabbè c'è l'Etna dove si sfumantizza prevalentemente nel Ulo Mascalese con un'uva autottona ma appunto ci sono importanti realtà anche nelle Madonie piuttosto che vicino a Nicata e anche nel Trapanese qui arriviamo a Funaro esatto che è una cantina di Santa Ninfa che è nel Belice perché ho scoperto che si dice Belice noi tutti dicevamo Belice e invece Belice si dice Belice che è il terremoto loro stanno proprio al confine tra la provincia di Trapani e quella di Agrigento e hanno le linee appunto tra Santa Ninfa e Salemi che è un paese che c'è proprio di fronte a Santa Ninfa è un'azienda relativamente giovane perché è nata nel 2003 io la conosco ormai da diversi anni la prima volta che sono andato ho conosciuto Giacomo Funaro che è il titolo Lazzi veramente molto simpatico ci siamo subito presi come si dice in simpatia e quindi da lì in poi ci siamo andati in contatto sono andato a trovarlo altre due volte e loro fanno, intanto lavorano il biologico dal 2011 e proprio dal 2011 hanno fatto uscire questo metodo classico che è un metodo classico di Chardonnay 100% che fa 24 mesi sui lieviti quindi un affinamento diciamo medio anche perché naturalmente partiamo da un'uva che già di per sé è molto carica di sole, di suolo chiaramente lo Chardonnay di Sicilia non può essere lo stesso Chardonnay del appunto che abbiamo detto prima Franciacorta, Trento, Alta Langa, men che meno lo champagne Alte terroie, Alte terroie, Alte terroie e quindi loro hanno questa vigna di un ettaro di Chardonnay a Saleni e sempre con questo ettaro fanno ogni anno lo spumante millesimato metodo classico ed è una produzione di poco più di 6.000 bottiglie il problema grave è che non c'è più bisogna essere molto accorti con gli acquisti perché in certi periodi dell'anno non è disponibile quindi bisogna aspettare poi le spuccature e così via ma quello da un lato dispiace e dall'altro mi fa molto piacere perché comunque ragioniamo sulle nostre dimensioni che piacciono a noi sì poi Fumaro naturalmente è una cantina che noi parliamo di sostanzialmente di Nero Tassico ma è una cantina che fa Nero Tavola, fa Grillo, quindi tutte le... fa dei bianchi veramente tipici esatto però effettivamente io che li sto testando in carta devo dire che danno grandi soddisfazioni ecco quando parliamo di rapporto qualità prezzo sicuramente Fumaro rientra in questa categoria a livello anche ristorazione sono dei vini che stanno molto bene qua in Piemonte quindi fa piacere poi appunto lavorare con persone simpatiche come Giacomo fa ancora più piacere io ho già versato il nostro sfumante metodo classico nel bicchiere facciamo al volo una piccola analisi del vino tanto salute e grazie di essere venuto grazie a te è sempre un piacere ecco io mi sono innamorato fin dalla prima volta di questo sfumante che ho assaggiato poi in varie annate normalmente successive e quello che mi colpisce è l'equilibrio appunto che ha tra la finezza e l'acidità dello chardonnay con appunto come abbiamo detto prima sicuramente un'uva che diciamo si sente che è siciliana perché ha un corpo vediamo anche il colore esatto se noi assaggiamo degli chardonnay magari del nord Italia piuttosto che esteri lo vediamo di essere un perino più scarico questo qua invece è bello 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 carico esatto poi si sentono vabbè le classiche note appunto degli sfumanti siciliani che hanno queste note di pasticceria di mandorla quindi sicuramente note complesse ma poi in realtà in bocca è molto fresco ma non significa che sia uno sfumante facile nel senso che comunque uno sfumante che anche una bellissima longevità io ho fatto un esperimento ho ottenuto in cantina una bottiglia del 2016 che era stata sboccata nel 2019 e l'ho aperta un mese fa ed era perfetta quindi tre anni assolutamente anzi secondo me anche più chiaramente non è un vino da non c'è lunghissimo effettivamente però è un vino che può evolvere anche una bottiglia a questo punto andiamo a vedere gustativo ecco quello che dicevo prima quindi l'acidità presentissima in alcuni sfumanti siciliani può capitare di avere invece molta più opulenza molto più grasso molto più grasso molto più rotondo questo invece loro lo dosano poco direi che siamo sicuramente questa è un'altra delle tue chicche nel senso che a te piacciono gli sfumanti e piacciono soprattutto gli sfumanti poco dosati o per nulla dosati sì sì diciamo che allora io ripeto sono partito tanti anni fa a bere bere sfumanti quindi diciamo che all'inizio anch'io magari gradivo che fosse più rotondo lo stesso discorso facciamo prima con i rossi e poi il palato si evolve quindi chiaramente poi comprandone e degustandone alla fine uno sui tuoi sui tuoi palazzi si costruisce il proprio gusto è sicuramente io li preferisco meno dosati però poi alla fine ognuno questo è un brutto però brutto sì ormai ormai si dice brutto ma quasi tutti ormai si tengono su dosaggi diciamo sotto gli otto sette otto grammi qui siamo secondo me intorno ai cinque adesso non ho dato preciso ma presumo a sentirlo così ecco ti faccio fare una cosa che normalmente faccio io ma tanto non ci sono problemi tu sei stato giuro hai assaggiato ci hai anche mangiato ci hai pasteggiato con Giacomo? sì mi ha fatto assaggiare qualche cosa lui tra l'altro ha una foresteria anche quindi fa anche ospitalità quindi ho dormito una notte lì da lui una volta e Giacomo cosa lo abbinerebbe? e lui abbina sempre con prodotti del territorio quindi con salumi, con formaggi, esatto ovviamente pesce ma quello è elementare pesce però lì c'è anche visto che siamo comunque all'interno della Sicilia quindi anche non so selvaggina c'è un'oretta dalla costa per meno esatto magari non so un coniglio ecco può tenere io sono un grande sostenitore della bollicina con le carni grigliate carni grigliate io ho già fatto con champagne, metodi classi in genera, carni grigliata e bollicina se chiaramente parli di bollicina con una certa struttura è fantastico ma comunque hanno questa capacità di ripulire quindi tu parli di coniglio, l'epra, selvaggine, tutto la tengono sì 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 secondo me è un buon momento e non con i dolci per piacere per favore non con i dolci molto bene, Luca sicuramente ci rivedremo perché ti dovrei far scoprire qualche altro vino questa è la prima, è la prima delle tue comparsate ricincina sì, bravo un saluto a tutti, ovviamente noi adesso tagliamo e ci finiamo la bottiglia ciao a tutti ciao 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 ciao